Anime. Mi sono svegliato strano in questo mattino d'autunno. Sono ancora vestito dal giorno prima e non mi ricordo nemmeno perché. Mi incammino verso l'uscita mentre sento il rumore dell'acqua nei canali. Piove. La pioggia è mia amica. Mi piace camminare mentre le sue goccioline picchiettano sul mio volto. Mi rilassano, accompagnano i miei pensieri in un'altra stupenda dimensione. È molto presto, è molto buio. Una luce attira la mia attenzione sulla spiaggia. C'è già un piccolo bar aperto, mi incammino. In pochi attimi arrivo a destinazione. Non ci sono clienti. Scorgo una signora anziana. Nonostante sul balcone si presenti una bellissima macchina per caffè espresso, lei si sta versando nella tazza la sua bevanda scura. Da una moca tradizionale mi guarda. Un sorriso che emana dagli occhi mi invita a sedere e lentamente porge con grazia una tazza fumante del suo caffè. Tra le mie mani, senza dire una parola. Il tempo sembra si sia fermato. Entrambi gustiamo questo momento magico sorseggiando piano piano il nostro caffè. Come se non volessimo non terminasse mai. Poi, dopo esserci alzati contemporaneamente, mi stringe una mano nelle sue e mi saluta sussurrando «Facevamo sempre così ogni mattina prima che prendesse il volo. Grazie per essere venuto. Ora devo proprio andare». Grazie per essere venuto.